guarda puppy dog pulse ogni giorno su disney junior ma ora divertiamoci insieme con un magico momento dopo aver guardato la loro serie di spionaggio preferita i cuccioli sono convinti che il compleanno di bob verrà rovinato da un pacco pieno di schiuma appiccicosa abbiamo seguito bonnie per tutta la città e ancora non abbiamo capito qual è la sorpresa di compleanno senza contare che non sappiamo che cosa c'è dentro il pacchetto che ha in mano quale pacchetto ma è identico a quello della schiuma appiccicosa che si vedeva nel cartone di super spia dobbiamo avvertirla mi scusi super spia in movimento guarda ecco bonnie stai bene rolly bonnie non ha forse detto che la sorpresa si terrà stasera a casa oh no è quasi sera ormai non perdiamo tempo dobbiamo correre a casa di bob e avvertire lui e bonnie della schiuma appiccicosa dove sarà finita bonnie ehi la cucciolotti dobbiamo impedirgli di aprire quel pacchetto bob 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 ehi ragazzi non sappiamo quale sarà la sorpresa di bonnie ma dentro il pacchetto c'è di sicuro la schiuma appiccicosa ehi calma cuccioli ma che vi prende cos'è tutto questo entusiasmo la festa di compleanno per me e questa la sorpresa ci ho lavorato per tutto il giorno e questo pacchetto che cosa contiene no aspetta c'è la schiuma appiccicosa una torta a tema scientifico le adoro una torta dovevamo aspettarcelo per fortuna i cuccioli ti hanno trattenuto in giardino ci siamo nascosti giusto in tempo senza di loro la tua sorpresa di compleanno sarebbe stata rovinata grazie cuccioli il sospetto di bingo e rolli era sbagliato ma i cuccioli hanno comunque reso unico il compleanno di bob guarda altri magici momenti e non perdere puppy dog pulse su disney junior clicca sullo schermo per vedere altri video e vai su disney junior per seguire i tuoi programmi preferiti